Federica Panicucci nasce a Cecina in provincia di Livorno il 27 ottobre 1967 e alta un metro e 75 centimetri. Presentatrice tv è diventata molto famosa nel corso degli anni 90 quando è diventata volto di Italia 1 ed è stata al timone di diversi programmi come Festival Bar. Ecco 5 cose che forse non sai su Federica Panicucci. Da piccola era molto affezionata alla nonna Chiarina che in famiglia è sempre stata la più grande sostenitrice della sua carriera televisiva. Il debutto in tv risale al 1987 come centralinista di Portobello lo storico programma di Enzo Tortora. E' stata legata sentimentalmente per vent'anni al dj Mario Fargetta di cui per nove da sposati dal 2006 al 2015. Ha sempre portato i capelli lunghi e biondi e negli anni 90 sono stati definiti come i capelli più lunghi della televisione italiana. È vissata con la detersione del viso e fa uno scrub una volta alla settimana.